Siamo pronti, quindi se volete visitare questi comuni potete farlo e voglio ringraziare davvero intanto il comitato organizzatore per quanto riguarda alcune persone nello specifico, ma intanto vorrei chiamare qui con me il commissario del comune di Soverato, la dottoressa Virginia Rizzo, un applauso a lei e fra le altre cose, caro dottoressa, buonasera, piacere di averla qua sul palco, mi corre voce che è un'idea sua, viva le iniziative delle donne in questo senso e viva le iniziative soprattutto quelle importanti, quelle belle. Allora c'è un sì qui, che è un sì che state dicendo voi perché siete qui con me, io ho lanciato un'idea, l'idea è stata raccolta da tutti, dai commercianti, dai cittadini, da tutte le associazioni di quartieri, da tutti. Io volevo una festa per voi, una festa che però sia un appuntamento annuale se il sindaco poi deciderà di mantenere questa festa, che non è solo una festa ma è anche qualcosa che porta soldi a questa città, e non porta soldi al comune in quanto tale ma porta soldi a tutti quanti. Quindi vi vorrei ringraziare tantissimo per essere qui veramente col cuore, io amo questa città e ho pensato che era un peccato lasciarla un po' come dire appena appena dopo questa bella estate. E quindi questa è un'iniziativa che non finisce qui perché abbiamo in mente di fare altre cose, col comitato le ringrazio moltissimo, senza il comitato tutto questo non sarebbe stato possibile. Ci sono delle persone che hanno lavorato veramente con le forze fisiche, con le intelligenze e hanno lavorato col cuore perché amano questa città. E quindi vi prego di fare un applauso a loro. Per finire, perché voglio fare proprio io, diciamo non c'entro a niente, siete voi i protagonisti di questa serata e vorrei ringraziare tutti i sindaci che sono qui con me che invito a salire sul palco. Alcuni non sono ancora arrivati, altri no e sono comunque 15 sindaci di Centrache, Chiaravalle, Davoli, Isca, Montepaone, Sant'Andrea, San Vito Squillace, Satriano, Torre di Ruggero e Valle Fiorita. Perché i sindaci sono l'energia di questo comprensorio, non è solo soverato ma sono tutti i 28 sindaci insieme. Quindi io li vorrei ringraziare, diciamo che ognuno di loro porta dei prodotti di eccellenza, dei beni di eccellenza. Questo territorio è un territorio ricchissimo che va valorizzato, quindi io sto tentando di fare questo. Grazie per tutto. Ecco qui, perfetto, perfetto, molto bene. Io consegno intanto il microfono, stia attento che è un microfono di quelli del Mr. Forrest, del mago, no? A un certo punto il filo ci abbandona ma è tutto sotto controllo. Ringraziamolo.